Il Decimino di Ottoni Domino Brass in concerto nei giorni scorsi presso la Grotta Lurdiana a Cannero Riviera, serata nell'ambito della rassegna Castello di Note, giunta la quinta edizione e che proseguirà anche il prossimo mese. Il 12 d'agosto con un quartetto di percussioni Waikiki e poi il 13 d'agosto due appuntamenti, uno al mattino con un duo forè, flauto e pianoforte e al pomeriggio un quintetto prando di musica jazz e musica mediterranea. Castello di Note si inserisce in Ceninar Festival. Il nostro festival si occupa di cultura veramente a 360 gradi, di letteratura, di arte, di storia locale e soprattutto di musica. Soprattutto una grande occasione per Cannero di intrattenere gli ospiti italiani, stranieri e i propri cittadini, ma soprattutto di fare una cosa grande perché tutti i concerti della rassegna Castello di Note sono per il comitato locale della Croce Rossa italiana, quindi veramente un bel momento per tutti noi. Grazie.